Come 3Micro dobbiamo fare assolutamente attenzione a tutti quelli che sono i cambiamenti che avvengono nel mondo IT, sia esso industriale, sia esso come IoT, sia esso consumer, in quanto tutte le nuove tecnologie abbiamo notato fino ad oggi hanno portato poi dei problemi di sicurezza che vengono gestiti purtroppo successivamente. Il concetto di 3Micro è quello appunto di seguire queste evoluzioni e di innovare in continuazione quello che è il suo portafoglio prodotti per poter rispondere a queste nuove esigenze che il mercato ci va a richiedere. Giusto per darvi un esempio parliamo di sicurezza nell'ambito di frigoriferi, parliamo di sicurezza informatica nell'ambito di lavatrici, di quello che è la domotica, dei nostri televisori, oltre a tutto quello che riguarda ad esempio gli impianti industriali che precedentemente basati su macchine dedicate e oggi sono basati su macchine abbastanza standard che hanno aperto quindi tutta una problematica di sicurezza che va gestita ed affrontata. Come 3Micro allora il nostro motto creato 27 anni fa era quello di avere un mondo libero dove scambiare informazioni in maniera sicura, quindi diciamo che non ci sentiamo i precursori di questa cosa ma comunque sia ne teniamo molto conto. Anche nei nostri processi produttivi ad esempio stiamo tenendo conto di tutto quello che è il discorso del green computing e così via, ma anche nei nostri prodotti. Faccio l'esempio del prodotto per la virtualizzazione, utilizzando un prodotto virtualizzazione 3Micro in modalità agentless abbiamo dei risparmi in termini di consumi, di raffreddamento, di consumo di energia elettrica, di risorse che va addirittura a un fattore di moltiplicatore per 3 rispetto a situazioni tradizionali. Quindi anche nell'ingegnerizzare i nostri software cerchiamo e teniamo conto di questi aspetti che riteniamo fondamentali per il futuro del nostro pianeta. 3Micro crede molto nella collaborazione e ha sempre lavorato in collaborazione con system integrator e con partner tipo VEM, perché noi siamo specializzati nel fare prodotti di sicurezza, di content security. Sono 27 anni che lo facciamo e facciamo esclusivamente quello. Sicuramente le competenze di un system integrator come VEM possono aiutare poi l'utente, il cliente, l'utente finale ad avere una percezione, una visione, un'integrazione di quello che sono le varie soluzioni offerte nel mercato, sia tra i micro che i non, che garantiscono il cliente di poter gestire e utilizzare quelli che sono i sistemi informatici, i sistemi industriali, quelle che sono le nuove tecnologie che giornalmente escono sul mercato dell'IT, di poterli utilizzare in modo sicuro e in modo utile e produttivo per le proprie aziende.